gentili telespettatori buona giornata avete notato visto che in questi giorni c'è una nuova notizia su pregliasco uno dei virologi abbastanza noti per le sue presenze in televisione per i suoi incarichi lui lavora al Galeazzi di Milano al Galeazzi non operano chi non è vaccinato nel senso che gli interventi non urgenti vengono rimandati per chi è fragile e per chi è non vaccinato perché dicono lo facciamo per tutelarli ma è venuto fuori un polverone perché dice come i pazienti sono tutti uguali se devi rimandare gli interventi non urgenti perché così fanno devono scegliere non devi stare a guardare chi è vaccinato non vaccinato ma se rimandi gli interventi devi rimandarli tutti in modo che tutti vengano rimandati allo stesso modo non ci sia nessuno che si trova ad essere rimandato a un anno e l'altro a un mese uno a un mese perché è vaccinato e l'altro a un anno perché non è vaccinato il virologo viene chiamato dai dai giudici dai pubblici ministeri e gli chiedono spiegazioni di quello che sta di quello che sta succedendo dicono perché lei non cura da quello che si apprende non vuole curare i non vaccinati perché alla fine se se quello che pensa pregliasco e non curare non operare i non vaccinati si configurano dei reati ovviamente pertanto è stato chiamato a dare delle delle spiegazioni intanto diciamo che questa polemica viene rilanciata proprio in queste ore soprattutto sui social lui fabrizio pregliasco direttore sanitario dell'istituto ortopedico galeazzi di milano e la trasmissione della tv fuori dal coro di rete 4 condotta da mario giordano ieri sera sostiene in un servizio che il virologo avrebbe firmato una circolare in base alla quale non verrebbero operate le persone sprovviste di super green pass quindi non vaccinate ma è il virologo nel pieno della delle accuse a smentire dice non ho mai detto che non operiamo i non vaccinati dice il medico dico solo che al galeazzi come in tutti gli ospedali italiani sono stati riprogrammati e posticipati gli interventi non urgenti come ad esempio l'alluce valgo uno fatto un esempio poi quando questi interventi coinvolgono pazienti con fragilità per esempio persone cardiopatiche eccetera eccetera siamo portati a rimandare perché nel post operatorio possono emergere criticità che in assenza di protezione vaccinale possono diventare pericolose spiega il virologo e direttore sanitario delle irccs del di milano che proprio oggi viene poi preso di nuovo di mira su telegram beh insomma diciamo che nel pomeriggio poi viene chiamato dal dai giudici dai magistrati di milano dal procuratore aggiunto procuratore della repubblica tiziana siciliano proprio in merito allo slittamento di tutti gli interventi non urgenti per pazienti con fragilità tra cui i non vaccinati con terza dose perché attenzione non è solo per i non vaccinati ma anche quelli che hanno fatto solo una dose o solo due vengono appunto rimandati i non vaccinati con terza dose non i non vaccinati punto i non vaccinati con terza dose quindi chi ha fatto solo una due dosi e non ha ancora prenotato la terza magari è fuori dai tempi viene risulta per questo pregliasco e per il suo ospedale una persona a rischio perché sei fatto passare troppo tempo e non hai prenotato la terza dose vuol dire che le tue difese sono scese e pertanto vieni equiparato a chi non ha fatto mai neanche un vaccino quindi i non vaccinati con terza dose l'audizione viene richiesta dal responsabile del dipartimento tutela della salute di milano dell'ambiente del lavoro e si è resa necessaria dopo che ieri sera come vi dicevo nella trasmissione fuori dal coro di rete 4 è stato sostenuto che ci fosse una circolare per respingere chi non ha il super green pass da quanto appreso il professore avrebbe chiarito la situazione non vi sarebbero criticità ma non è solo fuori dal coro con rete 4 la notizia è uscita sulla verità sulla verità proprio di un documento firmato da pregliasco dove si dice che vengono rimandati gli interventi non urgenti per fragili e non vaccinate quando si vogliono creare polemiche dice pregliasco ad arte su argomenti estremamente divisivi si stravolgono anche le affermazioni più chiare purtroppo anche in questa ondata la sanità deve rimandare interventi elettivi e questo vale per tutti con o senza green pass rafforzato con le nostre equip prima di procedere negli interventi operatori valutiamo bene le condizioni del paziente e le sue vere fragilità per non per non correre ulteriori rischi ovviamente non esiste nessuna direttiva regionale su questo tema ma la vicepresidente letizia moratti assessora al welfare ha diramato varie circolari nelle ultime settimane chiedendo di rinviare tutti gli interventi non urgenti a causa della necessità di impegnare spazio e personale nella cura dei pazienti covid da ats milano confermano che nessuna notizia di blocco delle operazioni pazienti non vaccinata è stata segnalata dal galeazzi e che se questo avveniste sarebbe sbagliato un ospedale non può autodisciplinarsi ma deve aderire a quelle che sono le indicazioni regionali nel caso di interventi programmati non urgenti qualche struttura a protocolli che per ridurre i rischi di ricovero pazienti positivi ha messo in priorità i vaccinati sono stati viceversa segnalati vari casi in diversi ospedali di pazienti risultati positivi al tampone d'ingresso che hanno dovuto rimandare interventi previsti ma non urgenti quindi che cosa dice non è che abbiamo detto sentite questa non è che si dice gli interventi non urgenti dei non vaccinati vengono spostati stiamo solo dicendo che diamo priorità ai vaccinati era presa in giro no non sto dicendo che non opero i non vaccinati sto dicendo che do preferenza ai vaccinati avete capito incredibile arrivederci a tutti e grazie